Un riconoscimento di prestigio, quello di Carnevale Storico d'Italia da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, uno stimolo significativo per dare impulso a un evento di livello nazionale che merita e richiamerà presenze anche da fuori regione. Per la prima volta due fine settimana dedicati al Carnevale di Larino, 2, 3, 9, 10 marzo, un impegno totale da parte del Comune e dell'Associazione Larinella di tutte le realtà coinvolte che si propone di valorizzare l'elevata qualità e le tecniche raggiunte dai gruppi costruttori pronti per le sfilate dei giganti di cartapesta. I carri allegorici saranno 6, alti anche 13 metri con diversi interventi dedicati alla sicurezza della manifestazione. Siamo stati riconosciuti tra i carnevali più importanti d'Italia, questo ci fa enormemente piacere. Per la prima volta avremo un carnevale che avrà risonanza sicuramente a livello nazionale e una serie di iniziative che andranno a supportare l'evento con l'obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio, le nostre risorse, patrimonio archeologico e in modo da poter far conoscere, grazie a questo evento, anche il nostro territorio. Tutto questo è stato possibile grazie soprattutto ai gruppi costruttori che realizzano i carri. Quindi grazie a loro se oggi siamo qui a parlare di questa manifestazione e dell'importanza che riveste a livello nazionale. Fitto il programma di iniziative condiviso con l'Associazione Larinella e presentato in sala fredda con la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Vesce e dei consiglieri Giulio Pontico e Olanda Giusti. Nuovo sito, ampie zone per i parcheggi, navette gratuite, street food, artisti di strada, gonfiabili per i bambini, laboratori con memo, cantieri culturali, coreografie e molto altro. Non mancheranno ospiti come Vittoria Markov di Amici, Modesto e Marta Faiola, Fabio Celenza, Andy Jay, Sossio Aruta e DJ Ambra Marie. L'apertura dei siti archeologici e voglio ringraziare la soprintendenza che ha consentito all'apertura straordinaria dei siti dalle 9 alle 17 tutti e quattro i giorni della manifestazione e poi l'Associazione Memo Cantieri Culturali per le attività di laboratori didattici per i bambini dai 6 a 12 anni, i ragazzi, i volontari del Servizio Civile Nazionale che garantiranno l'apertura del Museo Civico la mattina dalle 9 alle 13 nei giorni della manifestazione e il responsabile dell'archivio diocesano Giuseppe Mammarella che garantirà visite guidate al Museo Civico e alla Cattedrale. All'evento sarà dedicato anche uno speciale della trasmissione Viaggio in Molise. Grazie a tutti.